ok questa è un'altra domanda che mi piace molto oltre a quel in realtà fa un fatto ridere che c'è la gente se noi vediamo questa roba la gente guarda il gatto si dimentica che tu stai parlando però è divertente ciao ragazzi siamo sul canale mox chronicles siamo david chevalier e margherita derisi siamo qui per fare la sessione di creazione del personaggio del nuovo personaggio di margherita per la nostra prossima campagna di dungeons and dragons allora che tipo di personaggio avevi in mente a grandi linee e quindi qual è la sua classe allora io volevo sperimentare qualcosa di nuovo in questa campagna quindi volevo usare una classe che non avevo mai usato cioè voglio fare un bellissimo ladro fighissimo vediamo che succede che esce fuori sono sempre personaggi molto imprevedibili divertenti vai sono contento le vostre avventure si svolgeranno a raverock uno dei tanti regni del continente del carimor uno di quelli di derra la mia ambientazione per vari motivi di ordine storico geografico e politico derra non è ancora un mondo globalizzato completamente questo aspetto ha delle ripercussioni nella creazione di un personaggio ovviamente in particolare per quanto riguarda la scelta del popolo di origine ogni regno o regione infatti ha dei popoli residenti altri non residenti e alcuni che addirittura vengono considerati ostili puoi scegliere qualunque popolo ma la scelta che farai ovviamente si rifletterà su come il tuo personaggio verrà percepito dagli altri e quindi poi alla fine si tradurrà in uno spunto narrativo che noi argomenteremo ben bene in fase di background ok allora quale popolo avevi in mente? allora io avevo in mente sempre per fare qualcosa di nuovo volevo essere una mezzelfa mi piace mi interessa voglio vedere che succede di quale genere vuoi che sia il tuo personaggio? femmina quale vorresti che fossero i tratti distintivi della personalità del tuo personaggio? allora sono molti perché in realtà è un personaggio un po' complesso comunque diciamo quella principale che me la immagino un po' pazzerella una bella matta però matta buona è una qualità è una qualità esatto però matta buona nel senso non una matta cattiva che deve fare male o che pericoli rappresenta una matta mezza matta quindi magari un po' impulsiva diciamo che questo è il tratto distintivo principale ti vengono in mente altri aggettivi che potrebbero descrivere qualunque altra sua caratteristica? ma direi in generale abbastanza forte questo sì cioè cazzuta in parte anche però l'altro lato della medaglia è che in alcuni punti potrebbe essere anche abbastanza emotivamente sensibile cioè è una ragazza emotiva, empatica, molto me la immagino come se avesse tutti i sensi molto amplificati quindi è una che sente molto, le arriva molto tutto questa sua emotività riesce a controllarla oppure è un po' instabile? a volte sì e a volte no quindi è da lì anche magari delle reazioni un po' scomposte, disordinate ecco quindi si può dire che è un personaggio un po' imprevedibile sì, sì 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 in sintesi quali diresti che sono i principali pregi del tuo personaggio? allora sicuramente molto leale e soprattutto disposta ad aiutare sempre cioè lei è una che c'è per gli altri me la immagino molto fisicamente molto agile scaltra, veloce no? una che si muove veloce relativamente bella perché no? sfondiamo tutto a tratti anche simpatica nel senso ironica anche anche autoironica che trovo sia un grande pregio sì vai fermiamoci qua ok questa magari ne verranno fuori altri magari ne verranno fuori altri dopo esatto e i suoi difetti? ma io penso che fondamentalmente questa sua impulsività la può portare ogni tanto anche magari in situazioni scomode o magari a fare un errore perché magari fare una cosa senza pensarci troppo la può portare ad avere una reazione estremamente impulsiva e questo può avere delle ripercussioni sia su di lei che sugli altri insomma sui compagni e magari ogni tanto una sorta di ingenuità un po' degli aspetti infantili me lo immagino con degli aspetti ogni tanto estremamente infantili che magari possono rappresentare un difetto insomma in alcune situazioni ok il tuo personaggio persegue qualche ideale particolare? sì uno in particolare al quale tiene particolarmente scusate il gioco di parole la libertà la libertà espressa in ogni direzione fisica, mentale la libertà di essere e fare ciò che si vuole lei in primis ma anche gli altri perciò sei il tipico personaggio a cui nessuno può dire quello che deve fare esatto a meno che non corrisponda con la mia volontà ovviamente ti pare chiaro adesso parliamo un po' delle origini del tuo personaggio e di come immagini la sua famiglia hai ancora i genitori tu quanti anni hai per esempio? allora io la immagino su per giù della mia età io ne ho 24 quindi facciamo 25 cifra tonda e sì i genitori ce li ha entrambi la immagino proveniente da una famiglia nobile più o meno comunque decisamente benestante che rientra proprio nello schema nell'immaginario della borghesia, nobiltà di quella roba lì la immagino però diversa in qualche modo insomma da... cioè proprio con l'esigenza di trasgredire per diversificarsi dall'immagine dei genitori insomma da quello che le è stato imposto come giusto la scelta di questa classe è dovuta proprio a questa esigenza di trasgredire esatto non la interpreterei proprio ladro nel senso che deve rubare ma come esigenza di trasgredire che poi ogni tanto possa anche rubare una cosa sì sempre perché rientra nella trasgressione rispetto all'educazione schematica no? rigida rigida della famiglia ok quindi vabbè insomma diciamo è una sorta di crisi adolescenziale di ribellione non completamente superata diciamo ok vabbè non mi piace hai qualche idea riguardo alla loro professione mi hai detto che sono nobili però magari insomma fanno qualche cosa qualche attività in particolare ma io immagino che siano persone che non hanno mai lavorato che non lavorano e che non hanno mai lavorato ok abbiamo detto che sono nobili esatto però in realtà potrebbero non lo so diciamo amministrare magari delle insomma le eredità no? delle grandi somme di denaro un'amministrazione familiare quindi compiti amministrativi ecco quello sì in che rapporti è il tuo personaggio con i suoi genitori? alla fine ma decisamente conflittuali proprio decisamente conflittuali non c'è è rimasto veramente poco di buono con entrambi o con uno in particolare? con entrambi perché in realtà cioè non abbiamo ben distinto le due figure allora no tra le due figure mi immagino più un padre padrone ecco sicuramente non che la madre non abbia più o meno gli stessi ideali però la immagino anch'essa magari leggermente schiava della figura diciamo del padre che quindi ha le eredini in mano di tutti anche della moglie il tuo personaggio ha fratelli e sorelle e se ce li ha che cosa fanno? arriviamo al dolore aveva una sorella perché? perché ho pensato che nella psicologia del personaggio che ruolerò questa estrema pazzia e questo insomma non propriamente equilibrio dovesse essere giustificato da un trauma in qualche modo e quindi ho immaginato che il trauma potesse essere questo cioè che lei avesse una sorella maggiore con la quale aveva un buonissimissimo rapporto proprio bello simbiotico e che per l'educazione familiare questa pressione questa rigidità e questa poca libertà proprio di anche di fare di fare quello che lei voleva nella vita questa sorella si toglie la vita ah ok quindi sì aveva una sorella che non c'è più ok una sorella che non c'è più che non ha resistito alla pressione a cui tu comunque hai resistito sì alla quale io resisto ma con grandissima difficoltà e non con pochi traumi evidenti ok quindi vi siete comunque fino a un certo punto fatte forza per resistere a questa pressione familiare questi rapporti non proprio insomma idilliaci diciamo con insomma qualcuno dei vostri con la parte genitoriale con la parte genitoriale va bene allora questa è un'altra domanda che a me piace molto fare insomma oltre a quelli familiari il tuo personaggio ha anche altri legami extra familiari che considera importanti? ma in realtà io immagino di no la immagino come una persona particolarmente sola aveva un rapporto molto importante che era quello con la sorella però la immagino come in cerca di cioè le piacerebbe molto ritrovare un rapporto non dico al pari di quello con la sorella ma che si avvicini a quel tipo di simbiosi lì quindi mi piacerebbe molto se durante la campagna riuscissi a individuare tra i miei compagni di gioco una scelta cioè qualcuno con cui veramente poter entrare in sintonia cioè è molto aperta a lasciarsi stupire in positivo da qualcuno che però immagino ancora non abbia trovato quindi diciamo che prima dell'avventura non ti viene in mente nessun problema l'immagino decisamente sola va bene va bene magari vediamo se poi in fase di background riesco anche a proporti qualche altra cosa che in questo momento non ci viene che magari ti può stimolare sì 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 certo che magari inseriamo in un secondo momento vediamo un attimo sì sì va bene? yes allora Margherì l'ultima domanda sarebbe se ti viene in mente così su due piedi un evento significativo nell'infanzia del tuo personaggio ah sì diciamo che mia sorella si è solo suicidata ma non è che va bene mi sembra che sia già stato affrontato e anche abbastanza in modo approfondito questo argomento quindi ok insomma diciamo che abbiamo un po' tutte le domande e adesso insomma sulla base di questi spunti che mi hai dato io ti farò il background e niente che inserirò diciamo nell'avventura lo arricchirò di agganci e di episodi e lo inserirò nell'ambientazione e quindi di conseguenza nell'avventura che andremo a fare fico non vedo l'ora di giocare grazie ciao